E' stata una rischiusa ma necessaria operazione congiunta di esercito e marina militare a portare in mare la bomba trovata nella mattinata di ieri nel lungomare di Sassonia di Fano durante dei lavori di posa degli scolmatori. A decidere la via operativa una riunione d'urgenza del centro operativo comunale che nel tardo pomeriggio di ieri ha visto partecipare le massime cariche civili e militari ed anche il prefetto di Pesaro Urbino, la dottoressa Carla Cincarilli. La decisione è stata quella di evacuare tutti i residenti che si trovavano nel raggio di azione dell'ordigno, ovvero 1.816 metri, pari ad oltre 23.000 persone. Questo per non mettere a rischio l'incolumità dei cittadini, essendo l'ordigno particolarmente pericoloso proprio per la sua tipologia. La decisione presa ha visto immediatamente partire la macchina operativa che ha aiutato la popolazione a spostarsi dapprima in dei punti di attesa e poi in dei punti di raccolta, dove in molti hanno passato la notte come palestre, scuole ma anche parrocchie e cooperative. Dalla prima serata di ieri l'evacuazione totale della zona a rischio, grazie all'ausilio di tutte le forze dell'ordine, della protezione civile, ma anche di AMI che ha messo a disposizione autobus per gli spostamenti, oltre che al 118 che ha gestito i casi più difficili. Chiuso anche l'ospedale Santa Croce, da cui molti pazienti sono stati dimessi, mentre altri spostati. Chiuso lo spazio ferroviario ed anche quello portuale ed aereo. In molti si sono appoggiati da amici e conoscenti, mentre tanti altri hanno usufruito delle strutture messe a disposizione. La parte operativa riguardo l'ordigno è stata effettuata questa mattina, quando la bomba inglese MK6 da 500 Libre è stata portata in mare con successo. Dalla mattinata di oggi sono stati riaperti sia gli uffici pubblici che gli esercizi privati, mentre le scuole, per motivi gestionali e logistici, sono rimasti chiuse. La Marina Militare ha provveduto così a determinare la zona di mare interdetta alla navigazione marittima ed aerea, grazie al prezioso aiuto della Capitaneria di Porto, che ha assistito a tutte le operazioni.